musica 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 come funziona questo ascensore? inserisci la tessera e hop non funziona che cazzo che cazzo di tessere ci hanno dato sti str*** musica un dos mo si no la storia di colombo musica Se è un peggio spese nella mia vita Sì, sta asciugando l'asfalto Che piove Ok Ehi 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 Gente, andiamo a farci la doccia Uaah Cos'è? I parenti non dovrebbero commentare Ma dai cazzo ragazzi Non possono rovinare ogni pub Ogni Di foto che pubblici Ragazzi stiamo parlando Il museo di museo La lista di Giuseppe I need you to use, 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 use your imagination Ehi Il rientro è stato molto impegnativo ma abbiamo una chicca per voi Attenzione Mi capita una volta nella vita di prendere un Alessandro Il Ferrari dei cocktail Il Ferrari dei cocktail ragazzi Vai ragazzo Questa meravigliosa costa C'è un sole che è veramente accecante C'è un piccolo problema Dobbiamo andare veramente Lassù Andrea Where are we? Where are we? Andiamo all'hotel W Niente fa un po' di meno che Grandissime scoteca Vedi Vedi io non farti cacciare subito Vedi io non farti cacciare subito Vedi resistere meno Foto foto Buongiorno ragazzi Buongiorno Come siamo? No Non riusciamo a uscire dalla stazione Trappolati da 10 minuti Non riusciamo a uscire Non riusciamo a uscire Ma cazzo si ha Dai prendiamo sto strumento Della mattina di ieri sera Al faccia trovo ragazzi Con 14 ore e 90 Cosa potevamo comprare? Una bella paella tipica No! Andiamo a prendere una pizza del cazzo Fatta da di napoletani Che lasciamo fare la pizza La dedizione al lavoro di Raffaele Crici Ragazzi non ho mai visto Una persona così dedita al lavoro Cioè... No so il lavoro per lui è tutto E' stato scelto perché? L'ostello per lui è la scelta di vita Lui prende parte La recepcia anche da mezzanotte Anche se dovrebbe essere aperta tutta la notte Beh un dettaglio Se volete se volete Raffaele vi fa anche un piacere Restare lì fino a mezzanotte a 10 Però ragazzi Avvicarco 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 due euro Provare a convincere il titolare del ristorante A non pagare Perché siamo già in lista per la discoteca Chezy Ma a teca Ma che è pochissimo Uno questo è può software No, no no no, quello che fa Siamo in lista in lista Quindi non homamso ne mêmes Sto in lista in lista Presto per la differenza Si solo questo No in lista ciò qualifichiamo Non ho bisogno di pagare mangiate una bella pizza col provolone e le due banziole vai a cagare del cazzo in Italia c'è qualcosa che non va in Italia c'è qualcosa che non va che non so che cazzo studia il caffè